In occasione della giornata nazionale contro la pedofilia, la Polizia di Stato vuole testimoniare il suo impegno. Ne parliamo oggi con Antonia Pruzzese, direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. Direttore, che tipo di attività mette in atto la Polizia Postale per contrastare questo fenomeno? La Polizia si muove su due grossi fronti. Quello dell'attività di contrasto, della repressione, dell'investigazione è sempre più attenta, sempre più complessa, perché le comunità pedofile o per amai utilizzano il famoso deep web, cioè il web profondo, con dei sistemi di navigazione anonimizzati, quindi che rendono difficile la rintracciabilità. Quindi attività di grande complessità tecnica con l'ausilio dei centri di eccellenza di studio italiani, le università che ci stanno supportando e questo da un lato sul piano della repressione pure è semplice. Poi sul piano della prevenzione una serie di iniziative di grande importanza, di grande respiro per coinvolgere i giovani e l'esperienza del track, di una vita da social, è stata decisamente una grande sorpresa positiva per tutti noi e la Polizia si sta impegnando al massimo per coinvolgere i giovani e tutti quelli che girano attorno ai giovani per sensibilizzare a questo problema. Quali sono le tattiche più usate dai pedofili per addescare i minori su internet? Le tattiche che oggi sono più frequenti, più d'uso, sono quelle riferite all'utilizzo distorto dei social media, questi nuovi sistemi di comunicazione, che molto spesso vedono gli adulti fingersi persone diverse da quelle che sono realmente, fingersi magari giovani o più giovani e quindi entrare il più possibile in intimità e quindi entrare il più possibile a contatto con i minori e quindi indurli a questo gravissimo errore. Quali sono i campanelli di allarme che dovrebbero ascoltare i genitori nei confronti dei loro figli? Domanda estremamente complessa, risposta estremamente complessa perché riguarda dicende di carattere generale, sociale diciamo che il campanello d'allarme più serio, più grave, almeno per quella che è l'esperienza di noi poliziotti è quando la famiglia ci manda il segnale di mancanza di dialogo e di contatto e di collegamento con il giovane, con il minore. Finché in ambiti familiari si restano assicurati dei canali di dialogo, di contatto tra minori e familiari, genitori o comunque familiari più adulti, il discorso può reggere. Quando il canale di contatto e di dialogo finisce allora c'è da preoccuparsi seriamente.